Buon pomeriggio a tutti carissimi amici, siamo ancora qui una volta per chiamare il Brasile, per chiamare Marco per questo Brasile sempre più in fermento in questa ventottesima giornata mondiale della gioventù, una giornata che come Marco ieri ci ricordava il Papa ha ormai ribattezzato, tra virgolette, settimana della gioventù, proprio perché lo sappiamo, gli eventi sono tanti, perché quei due giorni forti di incontro con il Santo Padre sono di fatto preparati da tutto un tempo che i giovani vivono con i vescovi, con le catechesi, ma che sappiamo in Brasile è stato preparato anche da una settimana missionaria. Marco, benvenuto, buongiorno, perché per voi, anche se sappiamo che la tua mattina è iniziata molto molto presto, i collegamenti con l'Italia, d'altra parte, vi tengono svegli a ore abbastanza all'alba, diremmo per noi. Buongiorno a te, benvenuto tra noi. Buongiorno, grazie Mariangela. Oggi con noi abbiamo Sor Veronica Bernasconi e lei ci darà, sarà per noi la voce di giovani, giovani italiani che si stanno preparando a vivere questa giornata mondiale. Buongiorno Veronica. Ciao Sor Mariangela e buongiorno a tutti. E' un grande buongiorno e un grande grazie, lo diciamo a nome di tutti e anche alla nostra Maria Rosaria per questo apporto importantissimo che ci permette di andare tutti i giorni in diretta e con lei per l'interfacciarsi sui social per tutti voi, i nostri amici a cui ricordiamo, instancabilmente, Maria Rosaria lo farebbe, di solito lo fa in chiusura, oggi lo facciamo anche in apertura, scrivete perché magari ascoltando vi possono venire anche degli interrogativi che potete porci subito e allora noi invitiamo Maria Rosaria a interromperci per darci eventuali segnalazioni. Va bene, ciao. Ok, Maria Rosaria ci dà il suo benvenuto. Allora, noi in questo momento parliamo ma sappiamo che il Santo Padre è in viaggio e dovrebbe essere a bordo di un elicottero che lo sta portando proprio al santuario di Nostra Signora della Paresida dove alle ore 10.30, ora brasiliana, praticamente quando vi lasceremo liberi dal nostro collegamento, proprio per andare a seguire. Marco però, intanto, che notizie ci sono dal Brasile? Allora, le notizie, se parliamo di stampa, le notizie principali sono due oggi. Un po' si parla sui giornali, vi farò vedere, del fatto che ieri c'è stato un blocco della metro e quindi ovviamente qua ci si chiede dopo il blocco del Papa nella strada, il blocco dei pellegrini ieri, che cosa succederà dopo? Quindi questa è una tematica, Globo è un giornale che fa capo al gruppo editoriale omonimo, con televisioni, radio, eccetera, apre proprio con questo titolo, che non so se riesco a farvi vedere, Rio fallisce nel test dei trasporti e quindi sta la preoccupazione per questo. Questo è l'argomento principale di Globo, quindi salterei invece all'altro giornale, UGIA, per poi vedere invece l'inserto sulla GMG. UGIA ha sempre, sto notando in questi giorni, un taglio leggermente differente da Globo e dice, giovani cattolici aprono la giornata con fede e allegria e qua c'è la foto dei tanti giovani che ieri hanno colorato davvero la spiaggia di Copacabana. La città si è riempita di bandiere di più di 100 paesi, davanti a un milione di fedeli, poi qua ovviamente c'è il solito divertimento, anche in Brasile non è diversa la cosa, un milione di fedeli per l'organizzazione e 400 mila per la Polizia Municipale. Donorani Tempesta, il monsignore, l'arcivescovo di Rio de Janeiro, ricorda le vittime di Candelaria e Vigario Gerau. Questo gesto dell'arcivescovo è stato molto apprezzato sia dei partecipanti brasiliani, sono incidenti avvenuti nel 1993 e anche dalla stampa e poi anche qua il tema della metro, del blocco della metro. Poi dentro, se voi possiamo vedere più avanti, abbiamo anche qualche altra notizia, anche qualche cosa simpatica, anche qualche cosettina simpatica. Marcos, prima di andare a poi le cosettine simpatiche, perché anche ieri, dobbiamo essere sinceri, ci hai divertito moltissimo con questi aneddoti, anche i nostri amici ci hanno poi raggiunto in chiusura di collegamento per dirci quanto sia stato bello, attraverso questi aneddoti, attraverso queste condivisioni di vita, poi ci piace chiamarle di più, tu ci abbia proprio portato in questo clima straordinario. Noi ieri sera, questa notte per noi in Italia abbiamo chi in diretta attraverso gli strumenti di informazione, televisione, chi attraverso le tantissime condivisioni di fotografie che in qualche modo vengono condivise sui tantissimi social network, immagini affascinanti, coloratissime, dicevi perché ci sembra ci siano stati anche dei giochi proprio colorati di scenografia, la celebrazione di apertura della giornata mondiale nella grande e famosissima spiaggia di Copacabana che come tu hai detto ha accolto un milione di giovani, ma portaci all'interno di quell'esperienza, di quell'emozione. Alcuni giovani qui in Italia questa mattina mi scrivevano dicendo è stato bello, è stato emozionante e vedendo eravamo pentiti di non poter essere lì, seriamente dispiaciuti di non poter condividere con loro proprio direttamente questa gioia. Ecco rendici partecipi fisicamente di questa gioia, l'altro giorno ci hai parlato di uno tsunami di folla che travolgeva per ogni movimento del Papa al suo arrivo, ma ieri questo grande movimento di giovani che hanno iniziato ufficialmente questo loro grande evento lì. Qua poi troverò un titolo, l'ho trovato subito, Via Crucis per andare a messa, titola l'inserto di globo, Via Crucis in tutti i sensi perché è stata una vera e propria processione che è partita da dove i pullman si fermavano sino a arrivare al palco, io credo di aver impiegato circa tre quarti d'ora per arrivare di cammino e ovviamente durante il cammino sono arrivato un'oretta e mezza prima dell'inizio del tutto, c'erano già per i maxischermi accesi e si incontravano ovviamente già le migliaia di pellegrini tra cui gruppetti di italiani che mi sembrano proprio sempre super organizzati, sanno tutto, quando ho qualche dubbio chiedo agli italiani e non ai volontari perché ne sanno qualcosa in più e niente ovviamente ci sono tante cose caratteristiche in questi gruppi che si possono incontrare, per esempio gli abbracci, che è una cosa che quando ho visto a Sidney non parlando bene l'inglese, lo ammetto, mi sono spaventato perché mi volevano abbracciare per forza e ho detto che sta succedendo, invece adesso l'ho imparato, ci sono le scritte in varie lingue, c'è stato anche un gruppetto, adesso ho visto va di moda qua a Rio, si mettono un vestito in 4 o 5 persone e c'è scritto abbraccio libero, quindi il pellegrino va in mezzo e viene abbracciato da questo gruppo, poi cose di tutti i tipi, un gruppo di ragazzi messicani, forse l'abbiamo anche pubblicato come fotografie, un gruppo di giovani vestiti con il sombrero, con i baffi da messicani, avevano anche strumenti, quindi le televisioni impazzivano, ma era anche un momento per fraternizzare, questo magari nelle ultime GMG c'è, se tu tiri fuori dalla tasca il cellulare o la macchina fotografica, automaticamente fai amicizia, perché tutto il gruppo si gira verso di te, scatti la foto e poi dopo ci si conosce e allora già anche questa è una novità rispetto a 10 anni fa, sicuramente non era così. Poi siamo arrivati nella spiaggia di Copacabana, che devo dire era veramente organizzata bene, quindi non siamo stati sottoposti a tsunami, l'organizzazione anche per i giornalisti molto precisa, abbiamo avuto una postazione fortunata, almeno ieri è stato così, quindi eravamo in un piano rialzato e potevamo vedere l'oceano di persone e di bandiere sempre sollevate. Devo dire, anche io ho notato una cosa che riporta uno dei due giornali, la bandiera degli Stati Uniti vicina alla bandiera dell'Iraq, sventolavano proprio con orgoglio e quindi questo è qualcosa che ovviamente ti colpisce, no? E poi bandiere di tutti i paesi, ho conosciuto, anche se non so in che lingua ci siamo parlati, un sacerdote della Cina e quindi era un gruppo proprio piccolo piccolo, pare che comunque alla GMG sia il contrario di quello che è successo con la Torre di Babele, tutti ci si capisce anche se tutti parliamo lingue diverse. E l'esperienza poi crediamo dello spirito, perché chiunque abbia partecipato fisicamente a una giornata mondiale veramente non può che darti assolutamente ragione Marco, è l'esperienza dello spirito, poi ritornando oggettivamente anche agli italiani va, come dire, va detto, va dato onore al merito perché comunque il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile ormai da anni segue da vicino con molta attenzione e con molta cura tutti i nostri giovani pellegrini presenti nelle giornate mondiali. Grande merito a chi in questi anni ha in qualche modo veramente con tanta attenzione e con tempismo, con precisione cercato di organizzare al meglio il tutto, pur sapendo che comunque Casa Italia resta il punto di riferimento per tutti i giovani, quindi lo diciamo eventualmente anche ad alcuni genitori che sono in ascolto e che potrebbero essere preoccupati, i nostri giovani pellegrini hanno sempre come riferimento Casa Italia e li possono trovare appunto casa. Dall'altra parte però realmente sappiamo che già anche con le pagine ufficiali, ma con la loro presenza sul posto il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile è presente e supporta sia i nostri pellegrini sia in qualche modo anche proprio l'organizzazione dei comitati centrali e questo come Italia sotto il cupolone siamo contenti come apporto che si possa sempre dare. Io però ritornerei un attimo in Italia perché di fatto noi e in qualche modo lo vedete anche alle mie spalle, ci sono diverse diocesi e ci sono diverse regioni che si stanno preparando a vivere la giornata mondiale della gioventù proprio gemellandosi con eventi locali. Noi stesse oggi siamo stati insieme ad un gruppo della provincia di Caserta, in modo particolare il gruppo della diocesi di Aversa, un gruppo di circa 90 giovani che si sta preparando a venire a Salerno dove si celebrerà a livello regionale appunto il gemellaggio con Rio nei giorni dal 26 al 28 e però questi ragazzi oggi con un tema specifico e con una sorta di laboratori di evangelizzazione hanno in qualche modo si sono sperimentati. Allora noi vorremmo che Suor Veronica ci potesse portare nel cuore, nell'animo, nello spirito con cui questi giovani stanno vivendo questa preparazione e quindi si stanno mettendo in sintonia per celebrare con uno stesso spirito i riti che poi si celebreranno con il Papa anche a Rio. Sì, Sor Mariangela, ti posso raccontare un po' l'esperienza che abbiamo fatto questa mattina. È stato molto interessante incontrare questi giovani, alcuni giovanissimi partivano dai 14 anni in su, ma ho trovato tanta voglia di fare. Si sono molto impegnati nei laboratori e tutti hanno manifestato l'intenzione di essere parte attiva alla GMG. Una delle cose che più mi ha incuriosito è stata proprio questa, oltre ad aver ascoltato la catechesi e partecipato ai vari momenti di preghiera e di incontro, si sono tutti rimboccati le maniche quando hanno capito che stava a loro preparare qualche cosa per aiutare altri giovani come loro a partecipare in modo attivo alla GMG. Questo è stato un po' il senso dei laboratori che abbiamo loro proposto e delle attività che sono andati a fare. In particolare ci sono alcune esperienze che possiamo ricordare. Sono stati molto interessati al laboratorio dei rotolini. Adesso vi chiederete che cosa sono i rotolini? I ragazzi si sono messi a preparare proprio fisicamente dei piccoli pezzettini di carta con delle frasi di Vangelo che poi saranno loro stessi a distribuire durante i momenti del fine settimana della veglia qui a Salerno ad altri giovani. Per loro è stata, penso, un'esperienza molto interessante. Hanno sperimentato il lavoro manuale, anche noioso a volte perché è un lavoro pratico, ripetitivo perché bisogna avvolgere questi rotolini, infilarli nella pasta ed è un lavoro a non finire perché ce ne vogliono sempre tantissimi. Ma hanno sperimentato come l'evangelizzazione va preparata, come sia necessario mettersi in gioco e fare in modo che ciascuno dia il suo contributo e la catena dell'evangelizzazione parte da piccoli gesti che poi possono arrivare a qualcosa di importante. E hanno sperimentato anche la condivisione perché nel mentre in cui preparavano questi rotolini si sono messi a chiacchierare, allora hanno condiviso esperienze, pezzi di vita, momenti di fede, esperienze forti. Questo penso che sia stato una delle cose semplici ma che forse li ha più coinvolti durante la mattinata. Questi ragazzi si sono ritrovati proprio su un tema, vado, vedo, vado, vivo e hanno provato a sperimentare attraverso video interviste che hanno preparato, piccoli post-it con immagini che poi gireranno nei prossimi giorni in rete, Vox Populi. Si sono in qualche modo interfacciati proprio con il mondo della comunicazione e, come ci diceva Suor Veronica, sperimentando propriamente l'arte del preparare l'annuncio. Quindi una nuova evangelizzazione molto lontana da quello che è l'improvvisazione e che invece cerca di sperimentare, di entrare proprio in quel mondo che è il mondo della parola ascoltata, della parola meditata, ricordata e poi quindi riespressa. Grazie Suor Veronica e ancora un'immersione nel Brasile. Nel Brasile e in quella messa che ieri sera, almeno per noi in Italia, è stata celebrata, messa di accoglienza, messa di apertura della giornata mondiale. Marco, da alcune risonanze sui social, le parole del celebrante sono state parole forti, parole toccanti. I giovani, come le hanno percepite o voi come avete percepito che loro si stiano sentendo raggiunti e messi in questione? Intanto do un'informazione importante perché ho scoperto che tanti pellegrini non sanno questa cosa, non hanno questa informazione, che invece è molto importante. Ovviamente il celebrante parlava in portoghese, però è possibile ascoltare in italiano, basta avere un telefonino con delle cuffiette, una radiolina e questa cosa viene già da diverse GMG, collegandosi col proprio telefonino puoi ascoltare la traduzione di tutta la celebrazione nella tua lingua, italiano, inglese, francese, non so quante lingue sono, ma davvero io le ho passate tutte dal cinese forse c'erano tante lingue, quindi questo è importante per la comprensione, perché è chiaro, i brasiliani sono circa 200 mila e quindi gli applausi, le cose al mio modo di vedere arrivavano quasi tutte da quella parte, da chi capiva, quindi al di là dell'apprezzamento per il gesto che ha fatto all'inizio di offrire questa celebrazione per le vittime di quegli incidenti, per la ragazza francese, anche lei morta proprio arrivando alla GMG durante il viaggio, oltre questo c'è stato molto apprezzamento per il richiamo che ha fatto varie volte ai giovani per creare, per formare un mondo nuovo, dice il mondo ha bisogno di voi giovani e dice dovete vivere con entusiasmo e anche con coerenza, lasciandovi guidare dallo Spirito Santo, è molto importante in questo periodo storico che è il Brasile, ma credo che tutto il mondo sta vivendo. Tre parole ancora, discernimento, utopia e sogno ha detto, sono necessari per la missione, ovviamente l'omedia di Monsignor Orani era incentrata poi sul tema della giornata e quindi sulla missione e poi riferendosi ai pellegrini ha detto le nostre case sono le vostre case, viviamo questo momento come una rivoluzione d'amore e ancora ha concluso con, dice durante questa GMG dobbiamo imparare a dire parla Signore che il tuo servo ti ascolta e a questo invito del Signore noi dobbiamo imparare a rispondere, eccomi, manda, manda a me. Bello, bello e speriamo che i nostri giovani possano lasciarsi coinvolgere, io devo dire che anche ascoltando i ragazzi questa mattina, nonostante la distanza però attraverso tutto il lavoro dell'informazione, del mondo della comunicazione, di questa rete globale, di trasmissioni continue di notizie, foto, video, link, al di là poi dell'aspetto nostalgico i ragazzi si sentivano realmente interpellati anche in prima persona su tutti questi input che stanno continuando ad arrivare veramente come un unico grande soffio dello spirito, e io a questo proposito inviterei anche chi ci ascolta a non perdere occasioni importanti perché lo ricordiamo la GMG è un evento di grazia non solo per chi come Marco è a Rio, come i milioni di giovani che in questo momento sono a Rio e celebreranno direttamente lì tutti i riti della celebrazione della giornata mondiale, ma il Papa, lo ricordiamo, ha concesso indulgenza plenaria anche a tutti coloro che si uniranno anche a distanza alla celebrazione di questi riti secondo appunto quanto poi la Chiesa stessa richiede proprio per ottenere l'indulgenza, allora vivere la GMG per noi diventa un evento realmente di grazia e di grazia santificante, cioè ci raggiunge, ci purifica e ricordiamo che l'indulgenza può essere anche donata, può essere chiesto al Signore che applici i benefici dell'indulgenza anche a chi probabilmente è più abbandonato, a chi probabilmente non beneficia di preghiere di altri, quindi ricordiamo che esistono le anime del purgatorio che continuano ad attendere le nostre preghiere, non è sterile devozionismo questo, ma è la nostra fede e la consapevolezza di essere stretti in una solidarietà d'amore che è anche comunione dei Santi, quindi applichiamo l'indulgenza, uniamoci ai riti che celebreremo e che celebreranno con il Papa tutti i presenti a Rio, ma viviamoli anche noi, noi come Pop Up, tutti a Rio con un click, vi proponiamo ogni giorno, ormai lo sapete, la preghiera del giorno proprio per entrare nell'atmosfera della giornata e ricordiamo che le tematiche sono sempre in stretta sintonia con quelle di di Rio. Oggi i nostri giovani in queste ore o tra un po' vivranno le catechesi proprio sul tema, che è anche il nostro tema, sete di speranza, sete di Dio, quindi un invito per tutti noi ad entrare in questo clima, a lasciarci coinvolgere da questo evento grande, straordinario di grazia. Siamo quasi in conclusione, io anche oggi lascerei poi l'ultimo saluto a Marco, però prima darei la parola a Maria Rosaria per darci parole, se ci sono dalla rete e poi un saluto che Veronica proprio riecheggiando l'incontro con i ragazzi di questa mattina può rivolgere a tutti e poi Marco proprio perché possa darci il suo saluto brasiliano. Maria Rosaria. Sì, una piccola panoramica di quello che è successo tra ieri e oggi, dal web abbiamo ricevuto un po' di apprezzamenti positivi per la diretta di ieri e soprattutto Rossella ci ha scritto che si è divertita molto, è stata molto simpatica. Poi ci hanno mandato anche delle email, in particolare volevo ricordare quella di Laura che sarebbe dovuta partire per Rio, però all'ultimo momento ha avuto dei problemi, quindi ci ha dovuto rinunciare e ci scrive che grazie a noi si è sentita comunque un po' lì, si sta sentendo un po' lì, quindi voleva salutare i suoi amici che invece erano partiti. E poi una cosa un po' così più divertente, forse hanno trovato molto simpatica una foto che ritrae uno scorcio d'Italia in Brasile, c'era un ragazzo che indossava una t-shirt con una scritta, un riferimento alla cucina sarda, quindi c'era Sandro che voleva chiedere a Marco dove aveva trovato questo ragazzo, se era un sardo o un brasiliano particolarmente appassionato della Sardegna, della cucina brasiliana. E poi al volo prima della risposta di Marco volevo giusto salutare qualcuno che ci segue, che ci scrive, che sono Giuseppe, Pedro, poi c'è Andrea, Adele e Michele. Grazie Maria Rosaria, grazie a te per l'apporto. Veronica, un saluto al volo. Sì, allora io vi saluto, vi lascio con questo aneddoto che mi è capitato stamattina perché è carino. Ho seguito il laboratorio con i ragazzi di Aversa sul Vox Populi ed è stato veramente divertente vedere come i giovani, anche i giovanissimi si siano lanciati in mezzo alle strade di Aversa cercando persone a cui fare domande da intervistare e vedere il loro entusiasmo davanti alle risposte. A loro non interessava che tipo di risposte avevano, ma solo il non essere insultati o allontanati è stata veramente un'esperienza positiva. Allora vi lascio con il saluto di questo entusiasmo e di questa speranza che a me hanno lasciato loro stamattina. Grazie, grazie mille Veronica. Marco. Ecco, mi vado al volissimo perché non voglio che nessuno si perda la celebrazione ad Apparissida. Intanto devo rispondere a Sandro che c'è, non posso fare pubblicità, però c'è la possibilità di mangiare sardo a Rio de Janeiro, credo che sia uno dei pochi posti, almeno a San Paolo di sicuro non ne ho trovato. Qua c'è, siccome delle persone che stanno nella nostra redazione hanno assaggiato qualcosa di tipico, mi hanno costretto ad andare al ristorante sardo dove siamo stati accolti ovviamente dicendo che io sono sardo e allora ci hanno un po' trattato bene, è stata un po' una festa, una cosa anche simpatica. Volevo dire invece alla persona che non è riuscita a venire a Rio, che oggi tra le varie storie che potevo raccontare, che possiamo raccontare proprio al volo al volo, c'è Irma Marcella Eugenia, una suora che non so di che congregazione sia, che aveva fatto la sua iscrizione alla giornata assieme a altre 150 persone di Fortaleza e hanno pagato tutto quanto con un'agenzia di viaggi e poi poco prima di partire hanno scoperto che l'agenzia che sono rivolti insomma erano dei, come si può dire, insomma delle persone non molto corrette, si sono presi i soldi e sono scappate, quindi questi sono rimasti a Fortaleza. Poi anche qua Providenza, è qualcuno che ha davvero aiutato questo gruppo di persone e sono riusciti a partire, non so se tutti ma quasi tutti adesso sono arrivati a Rio all'ultimo momento. Come cosa divertente c'è un trafiletto nel giornale Oggia intitolato Peccatori e qui c'è la fila per la confezione, evidentemente qua in Brasile non c'è il detto, si dice il peccato e non il pecatore perché ci sono proprio nomi, cognomi e anni, mancano soltanto i peccati e poi il resto è fatto e quindi c'è questo ragazzo italiano che dice che stava preparando un foglio con la lista dei peccati, non mi ricordo quale santo italiano credo, sempre di fronte a un giovane con la lista dei peccati, al fine confessione gli ha detto va bene guarda il tuo foglio, adesso il foglio era bianco, non so se sia successo anche con questo ragazzo. E poi una persona di 63 anni invece, un pochettino più anziana che ha approfittato dei confessionali sotto casa sua, dice mi sento giovane e è andata a confessarsi. Altra nota di colore è questo simpatico signore di una settantina d'anni che si è vestito da Papa, sembrava davvero il Papa da lontano e ovviamente ha tratto televisioni, pellegrini, tutti volevano fare una foto con lui, lui dice che è un sosia, ma in realtà la sua storia è un po' più complicata, lui dice che sta cercando di raccogliere soldi per comprare un camioncino e per ricostruire casa sua, quindi ha bisogno di aiuto, questa è la sua storia. E poi dice vorrei soltanto conoscere il Papa e essere abbracciato da lui. Per concludere, a proposito di nuova evangelizzazione, ci sono due titoli forti, oggi noi abbiamo pubblicato nel sito la testimonianza intervista del fondatore della comunità Palavra Viva, che oltre a fare una testimonianza come gli altri, ha spiegato un po' nel dettaglio che cos'è una nuova comunità, quindi comunità di vita, comunità di alleanza, com'è organizzata, che per noi che magari non conosciamo questo mondo, è oggi Globo titola in un articolo Nuova evangelizzazione, la nuova evangelizzazione svuota le parrocchie, praticamente dice che i cattolici, soprattutto i giovani preferiscono andare nelle nuove comunità piuttosto che nelle parrocchie tradizionali, questo, devo dire la verità, mi sembra che sia abbastanza vero, qua in Brasile. E infine, se me lo trovo in mezzo a tutta questa carta, per concludere, qua c'è la storia di tre ragazzi che raccontano un pochettino che cos'è lasciare tutto per andare a vivere in queste comunità, che vengono definite dal giornale più, come si dice, più severe dei grandi e vecchi ordini religiosi, sono più severe, ma i giovani qua dicono che hanno bisogno di questo radicalismo, allora la canzoncina che cantavano ieri preparando i kit del pellegrino è, faccio una traduzione così al volo in italiano, dice, lasciamo la facoltà, lasciamo gli amici, lasciamo il fidanzato o la fidanzata, non lasciamo però Gesù da parte, vieni a essere felice veramente. Giovani che ci sfidano con la loro radicalità e potremmo dire che questa non è una realtà solo brasiliana, chiunque lavora in modo diretto o indiretto con i giovani può rendersi conto che i giovani spesso e volentieri preferiscono i movimenti, le associazioni, nuove forme di vita comunitaria e forse proprio perché si sperimenta una solidarietà, una fraternità maggiore e questo resta poi una sfida per tutti noi che nella pastorale giovanile ci lavoriamo concretamente e che forse probabilmente interpella realtà parrocchiali proprio perché siano capaci di flessibilità e capaci di reinventarsi. In ultimo ricordiamo a tutti che proprio per aiutarci a vivere quelli che saranno gli eventi fondamentali, importanti, attesi da tutti, quindi quei collegamenti con Rio, quelle celebrazioni che il Papa viverà con i giovani per la Via Crucis, per la Veglia, per la Messa, ricordiamo però che non basta stare attaccati alla televisione per vedere, per sentire e restare comodamente a casa. Ci sono tantissime diocesi in Italia, noi in questi giorni sulla pagina di PopUp, su Facebook soprattutto, stiamo dando anche volto alle tantissime realtà locali, regionali o diocesane che stanno programmando per questo prossimo weekend collegamenti o possibilità proprio di gemellarsi con Rio. Allora a tutti voi carissimi amici che ci seguite, chiediamo anche un po' lo sforzo di visitare oltre noi anche le pagine ufficiali delle vostre diocesi, delle realtà regionali e probabilmente sabato sera, domenica mattina di unirvi lì dove viene celebrato il tutto per essere insieme a Papa Francesco, a tutti i giovani del mondo, essere insieme per costruire la Chiesa. Credo e penso di non esagerare, Papa Francesco sarebbe più contento di saperci uniti fisicamente a celebrare insieme ai nostri fratelli, insieme ai nostri vescovi, più che saperci soli davanti a uno schermo a battere a lui le mani. Quindi forza e coraggio, ritorniamo a quello spirito evangelico che i nostri giovani chiedono, cercano, testimoniano e per noi, per tutti noi, l'appuntamento è domani alla stessa ora, alle ore 15, Italia chiamerà nuovamente il Brasile e Marco sarà lì ad accoglierci a braccia aperte. Allora un grazie a tutti e a domani. Grazie. 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 Grazie.